Mi piacerebbe sapere anche che ti ha lasciato Giorgio nella tua vita Allora salto le prime domande perché sono da fallito, parto direttamente all'ultima Faccio solo questo Giorgio, ragazzi, per me Giorgio è come dire chi ti piace dei cattivi Dio Nessuno chiede mai qual è il personaggio di Giorgio preferito Chiedono sempre il Giorgio preferito Secondo me il miglior personaggio di Giorgio è Likia e Luca Che succede? Stanno facendo lavori solo? Sì, si stanno facendo lavori Stanno lavorando Sì, ti architetti! Dicevo, Likia e Luca non è solamente un personaggio È l'essenza di Giorgio Dario Moccia ce l'ha con sto fatto qua che l'essenza di Giorgio è il pilone del quattro Ma secondo me Dario Moccia se ne deve andare a fare in culo Likia e Luca è l'essenza di Giorgio Vi spiego Likia e Luca e il suo, come lo chiamo io, mystery stand Hanno conquistato il cuore di tutti perché O il bulbo di tutti Perché Questa sua Invasione degli schermi A inizio stagione Stava per ammazzare il protagonista ragazzi Il protagonista stava per ammazzare E che succede? Il protagonista usando Tutta la terrazza stava per ammazzare Vuoi andare a controllare? No, no Madonna che personaggio inutile Vabbè Sospeso dal canale Dicevo, buffone, buffone, buffone Ragazzi, mi fate parlare! Cioè minchia Io odio Io odio questa minchia di cosa qua Dicevo, mi sta sul cazzo sta cosa Che tutti i minchia di nerd Che sono stati Che sono Che sono nati Perché Esclusi dalla società E solamente perché amavano qualcosa Adesso stanno facendo lo stesso errore Escludono dalla società Chi ama qualcosa Dentro la categoria nerd Allora siete i succhiacazzi No ragazzi Non si fa così Dobbiamo amarci tutti E amare chi ama qualcosa di diverso L'Ikia e Luca È l'essenza Dell'amore Non corrisposto Stai zitto Vogliamo sentire i colpi Te li puoi riprendere Sti due euro Sto sta cane Te li puoi riprendere Perché mi pulisco il culo Con sti due euro Di merda Hai capito? L'Ikia e Luca Condivide La mia stessa lacrima Quando vi sento dire ste cose Avete capito che cazzo Con quello che fa Condivida la mia cazzo di lacrima Ragazzi E può accadere il mondo intero Come apparentemente sta succedendo Dentro di noi Ma io Non continuerò ad amare L'Ikia e Luca E tutte le sue lacrime Gettate per una buona causa Perché Sapete Io posso Decidere Di chiudere gli occhi Posso decidere Di germi da quella parte là Ma sapete cosa? Non decido mai Che il mio cuore smette di battere o no Lo fa automaticamente All'amore Non puoi dare un freno Come a quanto pare Non puoi dare neanche un freno Alle lacrime di L'Ikia e Luca Che Piangono per tutti noi Io adesso vi ordino Perché qua non si parla più di consiglio Vi suggeriscono Vi ordino Uno spam di L'Ikia e Luca Per farmi riprendere dalla boria Ok Sporco di tutto Vattene a fare in culo Mamma mia Come dico sempre io Se vuoi iniziare Giorgio Parti dalla 5 Io di cazzo di parlare Cambiamo topic Cambiamo topic Certo Don't be freaky Be leaky Hashtag Don't be freaky Be leaky Ok E la risposta seria Ragazzi Ma cosa è che non va in voi? Vi picchiava vostra madre? Perché Ve lo dico non perché voglio incontrarvi La mia mi picchiava a me E so capire quando c'è Una scontentezza Che ti fa odiare gli altri Io li amo e basta Mi scrivete manipolatore Vi amo Vi scrivete Dici solo cazzate Vi amo Perché Sapete perché la migliore arma L'amore Perché non è un'arma Grazie 5 euro Dollerio Ti amo È una debolezza Secondo te Un applauso All'Ipi Marco 1 Dollerio E non lo dico perché Ho donato una somma di denaro Maggiore delle altre di oggi Ma hai proprio ragione È una debolezza Secondo te l'amore Comunque Vi ricordate le Nine page Le nine muda muda Page Le chiamavano Quella di Le two Leaky pages A te A te piacciono gli anime A me Sì Devo rispondere sinceramente A questa cosa Certo E se poi si scatena Un po' di ferio Loro sa cosa possono fare al massimo Mettersi qua Abbracciarmi E dici Marco voglio la palla per Natale Io la regalo Ok E Non Non le seguo Non segui anime No Non te ne hai vergognato Loro sono solamente degli stronzi Sicuramente Vi incazzate sempre ragazzi Dovete amare il prossimo Ve l'ho sempre detto Cioè Hai il pace che cazzo Ecco la Uzi è una persona che capisce Comunque Se volete Un attimo che parliamo di anime Dite Io ho visto abbastanza Tutti gli anime del mondo Quindi Se volete Qualcuno dice che faccio bene Però in realtà Se posso essere veramente sincero Io penso che bisogna conoscere tutto Nella vita Siamo d'accordo Tutto Anche se non benissimo Per poter parlare delle cose Almeno per parlarne Anche quello Un bellissimo personaggio Marco Merino Scrive A presto il fatto Che tu ti sia innamorato Di un personaggio Tutti fuori dagli schemi Rispetto alla continuità Di Giorgio tradizionale Grazie Ma ci sono molti Fraintendimenti Riguardo Liki e Luca Prima di tutto Non aveva lo stand In quanto è confermato Nel manga che ogni caposquadra Di passione Ha il suo test personale Nel manga che ogni Che? Liki e Luca Non ha fatto il test Di polpo Dell'accendino Quindi la possibilità Di Liki e Luca Adesso uno stand È prossimo allo zero Assolutamente no Perché dicono Che è personale Ma non dicono Quale ha fatto lui Perciò Cioè tu mi stai dicendo Non è il 100% Perché non si è visto Ma è zero Perché non si è visto No No Lo stand c'è È come ragazzi Quella pala Cioè perché uno Perché uno dovrebbe Scegliere la pala Perché quelle scritte Palesemente Lo stand di Liki Marco venerdì 31 Esce un nuovo film Di shark Sul canale Della universo Sarà un tema Ora guardati Il trailer Assolutamente Ma andiamo avanti No ma Guardiamoci il trailer Quindi 31 live Confermata Ci vediamo Il nuovo film Dell'universo Non vedo l'ora Andiamo a guardarci il trailer Allora Allora Grazie a tutti